L'aggiornamento sui contagi e sui nuovi positivi al covid in Abruzzo. Da qualche giorno c'è questo trend che fa registrare un significativo abbassamento dei nuovi contagi. Vedremo se verrà mantenuto anche e soprattutto quando l'effetto Pasqua, diciamo così, si tradurrà appunto in teste e in tamponi. Ma intanto vediamo oggi il bollettino comunicato dall'assessorato alla salute della regione Abruzzo. Come dicevo rispetto a ieri ci sono 174 nuovi casi di età fra 1 e 94 anni. Sono stati eseguiti oggi circa 5.200 tamponi in tutto fra molecolari 3.238 e antigenici 1.987. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici oggi è pari al 3.3%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 21 nuovi casi e sale così a 2.269. Di questi 21 decessi della giornata di oggi però 8 sono riferiti ai giorni scorsi e sono stati comunicati solamente oggi dalle ASLE. L'età delle vittime va dai 60 ai 102 anni. I positivi in Abruzzo con età inferiore ai 19 anni sono 33 oggi di cui 18 in provincia dell'Aquila, 10 Teramo e 5 Chieti. Sono 302 le persone guarite quindi più 302 rispetto a ieri. Attualmente in Abruzzo sono 10.261 i positivi, meno 149 rispetto a ieri. Poi gli ultimi dati che riguardano i recovery, 553 meno 16 sono in terapia non intensiva, 59 meno 5 sono in terapia intensiva e 9.649 meno 128 in isolamento domiciliare. Per quanto concerne invece la territorialità dei nuovi positivi è ancora l'Aquila che guida questa classifica più 89 rispetto a ieri. seguita poi da Chieti con 13 casi, Pescara con 6 e Teramo con 54. Altri numeri invece riguardano verifiche in corso o anche casi che arrivano da fuori regione.